Gentili telespettatori, buona giornata, e così la Cuzzocrea fa uno strano elogio alla K. Schlein. Cioè, ma per dire il carattere che ha, giocava a poker durante lo spoglio. Beh, già è buono che non giocava ai videogiochi, però dice così l'analisa Cuzzocrea in un retroscena sulla stampa. La notte elettorale, quando c'erano gli scrutini, Schlein l'ha trascorsa a giocare a poker, nella variante Texas Hold'em. E così, secondo quanto riporta questa giornalista, lei ha portato le carte e le fisce, pure le fisce, ha detto allo staff distraiamoci, mischia tu. E poi, quando alle primarie del PD tutti dicevano che avrebbe perso, che stava perdendo contro Stefano Bonaccini, lei diceva aspettiamo. E così, la Cuzzocrea dice, per dire cattiverie, Ellis Schlein ha passato le ultime ore di attesa elettorale a giocare a poker, variante Texas Hold'em. E chissà cosa ci svela il fatto che facesse una partitina a poker durante lo spoglio. Ecco, quindi, come dire che è una con carattere, lei porta le fisce e le carte, giochiamo a carte mentre aspettiamo i dati ufficiali. Beh, è una che gioca. Lei stessa ha detto in più interviste che lei è una gamer, una giocatrice con i videogiochi. Quindi lei, per rilassarsi, gioca ai videogiochi. Ecco, io l'ultima volta che ho sentito qualcuno che giocava ai videogiochi, erano i miei amici della scuola, che a casa giocavano al calcio, a queste cose qua. A me non è mai interessato, insomma, l'ho vista come questo giocare ai videogiochi dopo una certa età, come un qualcosa di un po' infantile. No? Però, insomma, se lei è una gamer, a questo punto una gamer ti porta anche le carte e gioca a poker, se non si è portata dietro la console dei videogiochi. E così, dice la Cuzzocrea, la Schlein non ha mai inseguito Giorgia Meloni sul suo terreno, forse perché proprio gioca a poker online. Eh? In che senso? Come gioca a poker online. Quando la Premier le chiedeva di qualcosa sugli attacchi del socialista Schmitt o di De Luca, la segretaria Dempsey è limitata a rispondere, non sono un jukebox. Non rispondo a comando, a quello che dice la Meloni. Non è che la Meloni mi può dire quello che devo io, di cui io devo parlare. E quando l'ha provocata sui migranti da portare in Albania, ha continuato a battere su liste d'attesa e salario minimo. Quando le ha detto non hai abbastanza coraggio, ha fatto finta di non sentire. In effetti ha fatto finta di non sentire. Poi ha detto, comunque ha farfugliato la Schlein qualcosa in difesa dalla Meloni su De Luca, ha detto mi dispiace che qualcuno si senta in dovere di offenderla, però io non l'ho mai fatto. Quindi non ha nominato De Luca, ma praticamente, visto che la Meloni diceva che lei non era capace di prendere le difese sue, non aveva il coraggio, allora lei ha detto questa frase senza nominare De Luca in vano. Bene, ma lei ha sempre detto la Schlein, ma io sono nuova, non sono quelli che governavano prima il Partito Democratico, quindi Renzi, Conte, tutti quelli di sinistra sono venuti prima di me, io arrivo dopo, non mi chiedete conto di quello che fanno quelli prima. Le due leader si sono riconosciute e legittimate reciprocamente, si sono fatte la telefonata, ah, volevo farti gli auguri, no, io li faccio a te, non li faccio di più io a te, no, sei stata brava, 24, ma tu hai preso il 28. Ah, non si fanno fatte tutti i complimentoni, no? Però poi quando hanno chiuso il telefono erano ricominciato con la stessa storia. Bene, in effetti le due, anche essendo completamente diverse, non sono mai cadute nello scontro personale, cioè non è che si sono mai offese, ah, tu con quei capelli, tu con quella faccia, tu con quel vestito, non sono mai scese a scontri sul personale, sono rimasti sempre sui temi politici, il premierato, l'autonomia, la sanità, il salario minimo. Poi parleremo anche di quel decreto sulle liste d'attesa, perché Travaglio tira fuori la notizia che il decreto sulle liste d'attesa si farà ad autunno, cioè sarà attivo in autunno. Autunno, siamo al 12 di giugno, di solito quei decreti sono, il decreto legge è un qualcosa che viene attivato immediatamente. Autunno vuol dire chi vivrà vedrà, ma di questo poi ne parleremo nel prossimo video. Nel senso che comunque, se lei è abituata a giocare ai videogiochi, è una che poi ti porta anche le carte per giocare a poker quando stai aspettando i risultati, quindi bisogna avere voglia di fare quelle cose. Uno dice, no, ma poker giocaci te, no? Ah, i videogiochi, giocaci te. Io non sarei né da giocare a poker né da giocare ai videogiochi. Ricordo con gli amici che giocavamo a poker tanto tempo fa, con i videogiochi vedevo giocare gli amici, a me non interessava più di tanto, però sono quelle cose che magari ho fatto anch'io fino ad una certa età. Adesso non mi metto né a giocare né a poker né a scacchi, proprio non c'ho voglia, non mi interessa. Preferisco guardarmi la televisione che mettermi lì a giocare ai videogiochi o a poker. Però c'è chi è diversamente e lo fa tutti i giorni. Va bene, ognuno. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Nel prossimo video parleremo di Frato Ianni che rosica per il successo di Vannacci e dice ci dovremmo preoccupare. Va bene, quindi vi parlerò di Frato Ianni che si preoccupa di Vannacci ma non si preoccupa della Salis che ha fatto eleggere. Io se dovessi preoccuparmi di più di uno dei due mi preoccuperei di più della Salis che di Vannacci. Voi che dite? Ecco, io avrei più fiducia nel generale ex comandante della Folgore che della maestra. Non so voi però capisce a me. Va bene, ci vediamo al prossimo video tra un'oretta o 50 minuti, 55 minuti. Ce n'è uno ogni ora, fino a un certo orario. Grazie e nuovamente arrivederci.